Questa iniziativa che nasce con la Fondazione della Barca Popolare di Bergamo ha la finalità di raccogliere dei forni attraverso la vendita di questi bellissimi rumi del manzoni e di destinarli poi a ricavato alla Fondazione Resmini. Un'iniziativa che ci onora molto e ci orgoglie molto perché da sempre la Fondazione del Teatro di Onizetti ha proprio i suoi principi per poter collaborare con altre entità che operano sul territorio e soprattutto a favore dei più disagiati. Quindi sappiamo perfettamente che quanto andrà la Fondazione Resmini sarà utilizzata poi nel miglior modo possibile.